Caramelle! Mi scippa la macchina? Si scippa la macchina fotografica? Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda come fa! Capito che c'è le caramelle! Tu sei una furbastra, eh! Ti fai gli scippi, fai! Ma guarda che tipo! Ma Caterina, guarda! Mira, qui vediamo la panoramica la cimie e spera, un pochito mas arriva e spera, eh! Cogemo il gruppo e continuiamo al tunnel, eh! Ma pensate! Siamo incastrati qua noi Io di là non scendo di certo! Io scendo!